I play-off partiranno regolarmente domani. La decisione arriva al termine dell'ennesima lunga giornata, girata intorno al caso Palermo. La Corte federale d'appello infatti ha rigettato il ricorso d'urgenza presentato dalla società Rosa Nero che chiedeva un provvedimento cautelare di sospensiva dei play-off. Così non sarà. Richiesta rigettata e dunque domani sera si partirà regolarmente con Spezia Cittadella. Sabato sera Verona Perugia. La vincente di questa sfida ospiterà il Pescara mercoledì 22 maggio nella semifinale d'andata. Gara di ritorno all'Adriatico Cornacchia domenica 26 maggio. Resta fissata a giovedì 23 maggio l'udienza, questa volta di merito, di fronte ai giudici della Corte federale d'appello chiamata a decidere sul ricorso presentato sempre dal Palermo contro la sentenza del Tribunale federale nazionale che ha retrocesso all'ultimo posto la squadra Rosa Nero. Un provvedimento immediatamente esecutivo e sulla scorta del quale il Consiglio direttivo della Lega di B aveva optato per il mancato slittamento dei play-off per giocare nelle date già comunicate. Ai fini del calcio giocato tuttavia quel verdetto d'appello conterà poco o nulla visto quello che si è deciso questo pomeriggio. Vicenda Palermo che era entrata gamba tesa anche nel Consiglio federale che si è tenuto oggi. Consiglio che però non ha potuto incidere direttamente. Il Presidente federale Gravina ha ribadito la legittimità del provvedimento della Lega di Serie B. Circa il fronte play-out Gravina ha ritenuto di rivolgere nell'immediato un quesito al collegio di garanzia dello sport relativamente alla individuazione della quarta società retrocessa dalla Serie B alla Serie C e dunque alla necessità o meno che si debba procedere alla disputa del play-out. Di tale parere sarà data comunicazione tempestiva alla Lega di Serie B per gli eventuali adempimenti di competenza. Intanto il Pescara continua a lavorare immergendosi nel clima tranquillo del appoggio. La buona notizia di oggi è che Gaston Brugman che ieri era rimasto fuori stamani è tornato regolarmente in gruppo disputando anche la partitella finale. Ha continuato a lavorare a parte con corse intorno al campo Alessandro Bruno, lavoro differenziato sempre per Vincenzo Fiorillo, Cristiano Delgrosso e Ugo Campagnaro. Le prossime sedute, sempre singole mattutine, faranno capire se questi giocatori torneranno in gruppo e dunque regolarmente a disposizione di Pillon. Tornando al Consiglio federale odierno sono state anche ufficializzate le date del prossimo calciomercato che torna nel formato dei due mesi della sessione estiva, aperta dal 1 luglio al 2 settembre, sessione invernale dal 2 al 31 gennaio.